ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video della tecnologia eccoci ancora una volta su marte a smanettare con le api però stavolta stavolta ragazzi siamo andati molto avanti sono andato molto molto avanti perché ho nerdato io va bene merito fino adesso che guarda un po che cazzo sta per crashare il server 321 c'è un cazzo cresciato il server a eccoli arrivano ondate di combra che dovrebbe succedere la stessa cosa dall'altra parte però con una quantità decisamente superiore 321 non voglio guardare adesso tutti ecco la lag che inizia no non è vero la capo niente pensavo la cassa di più ecco qui ragazzi milioni di miliardi di comb seguiti dai droni senza destinazione che stanno raggiungendo la chest finale cazzo di comb i droni non mi diano alcun senso tutto ciò guardate quanti comb hanno prodotto e quanti droni hanno prodotto queste avi un numero spropositato guarda lì è che roba roba assurda tutta questa roba va importata nella me io lo dico guarda quante wintry le wintry ragazzi fanno quattro figli ecco perché ne escono così tante infatti potrei anche diminuire la quantità di farm sì ragazzi guardate un po che ho fatto ho messo tutte le api una per una tutte le api comunque quelle basi a farmare all'infinito in modo da avere infinite delle api di base eh sì perché le voglio sempre con me disponibili tutte le volte che voglio tutte 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 le volte che voglio voglio tutte le api come belle 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 cucciolose eh sì sono riempito la chest in diamante in nanosecondo non ha senso import basso per favore ok le sto importando tutte import basso quattro acceleration card vedi come importa tiè bam sparite perfetto allora il fatto è che ne stanno ancora arrivando cioè non hanno ancora smesso di arrivare guardate queste sono ancora no non è possibile c'è qualcosa che non va in tutto ciò è assurdo dove vanno queste api rosse oh oh vai nella direzione sbagliata oh viena della un pazzita perché vai lì sotto ma sta ape è fuori perché sei andata lì dentro che problemi hai che drogata sì effettivamente potrei utilizzare tubi più veloci ma non mi interessa perché tanto le api producono lentamente quindi quanta roba potrebbe mai uscire da queste api oh mio dio mi sento male comunque abbiamo lasciato il sospeso che stavamo passando al prossimo genoma anzi prossimi tre genoma e mi serviva quindi la blu e la pink alla blu si fa con la forest e la diligent mentre la pink si fa con la white e la red uguale la white e la red si fanno sempre con la diligent e un'altra e la red si fa con la diligent e un'altra quindi tutte con sta cazzo di diligent quindi ragazzi adesso dobbiamo cominciare a spammare diligent come deficienti come si fa la diligent la common più la coltivate ma potrebbe essere difficile da fare common e coltivate no le common abbiamo uno sproposito abbiamo anche delle regine common se per questo possiamo farle diventare possiamo farle figliare e in più abbiamo le coltivate che sono facilissime da fare che si fanno con le common più una qualunque quindi basta che scrivo drone un drone qualunque prendo 117 forest vai unisco le common con le forest semplicemente anzi sinceramente preferite fare delle princess ce l'ho delle princess di troppo sì ovviamente siamo le pristine ragazzi così ecco ci ritogliamo di torno perfetto andiamo a creare altre coltivate anzi altre coltivate un cazzo io non l'avevo mai fatte le coltivate guarda quanto schifo c'è qua dentro quanto quanto mutaggine c'è ok quindi le wintery più le common ci daranno la coltivate e lo stesso farò qui wintery e common che non ce l'ho però devo prendere le altre effettivamente ah no ce l'ho qui è stupido stupido xander non si fanno queste cose stupidità wintery no ho fatto wintery rocky che esce fuori un mostro un abominio wintery rocky no cosa ho fatto ragazzi ho creato un mostro intanto qui stanno uscendo le coltivate gg well played xander te dico fermate sei il the best in the world coltivate coltivate grazie grazie gentilissimo coltivate mia 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 e qui sta uscendo un abominio che uscita una common perfetto l'abominio era la common eccola qui altra coltivate qui dobbiamo tre coltivate qui magari pure quattro esatto quattro riesco a fare una quinta vabbè no quattro direi che basta quindi prendiamo queste quattro e le andiamo ad aggiungere alle nostre farm vola ovviamente ragazzi vedete ci da hostile environment purtroppo perché dobbiamo mettere l'umidità più due esatto tutte le api su venere a quanto pare non parlo cioè questo questo costo dell'umidità più due non vale per tutti i biomi del mondo vale solo per bioma venere non vi sbagliate ogni bioma ha bisogno della sua umidità della sua aridità eccetera 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 quindi dipende tutto dall'ape non si può sapere ragazzi non ne abbiamo idea comunque ecco quelle nostre coltivate che figliano io ne metterei anche altre a figliare ma poi adesso si accontentamone queste allora le coltivate quindi figlieranno e le coltivate unite in futuro con queste common che io possiedo queste bellissime common ci daranno la nostra ape importante per creare la magenta che sarebbe la diligent che poi la diligent unita con un determinata ape in questo caso la wintry ci dà la white o con la capito insomma eccetera eccetera quindi dobbiamo far figliare queste stronze devono figliare tanto 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 e mentre figliano in dato da fare una cosa molto figa che è scollegare un paio di apiari guardate che vi faccio vedere scollego un paio di apiari qui perché devo solo far figliare queste cazzo di regine devo levarmi queste regine dalle palle ragazzi per toglierle le faccio figliare però non le faccio riaccoppiare quindi le lascio dentro a morire questo questo poi vi spiegherò vi spiegherò perché perché la regina alla fine non serve a niente è un motivo molto semplice la regina non serve a niente non ha non ha alcuna utilità quindi dobbiamo dividerla almeno possiamo usare le principesse e i droni mettiamo l'umidità perché sennò qui non parte un cazzo ok perfetto sistemata questa affare ragazzi dobbiamo passare alla fase successiva della dell'assessamento di api esatto ragazzi andiamo sulla g industry vi faccio vedere un bellissimo macchinario faccio la g industry il bellissimo macchinario che noi abbiamo bisognissimo è questo qua questo affare qui ragazzi si chiama genetic template ci state fino a qui ok questo template ci permette di creare un genoma che noi vogliamo creare esattamente l'ape perfetta ci permette di creare il genoma dell'ape che vogliamo noi come cazzo ci pare a noi proprio al nostro piacere più totale ci state fino a qui ok sembra abbastanza semplice come cosa no perfetto che cazzo c'è quindi noi dobbiamo creare un po di questi genetic sample che non sarebbero altro che stampini ragazzi sono stampini per api servono a creare api con lo stampino è simpatica sembra stupida ma è simpatica ok tutte queste api con le stampino le creiamo come dove quando vogliamo noi fino a qua ci siamo noi scegliamo il tipo di api e la creiamo a buffo noi stiamo raccogliendo tutti questi geni per poterli inserire dentro un genetic template esatto ragazzi li stiamo mucchiando tutti per poter creare un template universale che sia onnisciente che sia il più potente di tutti il più perfetto il più incredibile che possa creare l'ape più potente mai esistita in questo caso ragazzi guardate cosa faccio prendo una bellissima crafting table vanilla vanillissima non usate quelle moddate sennò vi si incasina tutto mettete la crafting vanillosissima ovviamente non nell'angolo perché c'è la lampadina mettiamola tipo cazzo la metto la crafting table qui mortacci tua mortacci vostra ho finito il jetpack mortacci vostra mortacci vostra muoio 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 non morirexander non morirexander non morirexander non morirexander uccide mori ok raga non ho capito perché sono ancora vivo ma vabbè non so che cazzo è successo là sotto non so non me lo chiedete e comunque tornando al discorso geni guardate un po metto tutti i geni che ho raccolto nella crafting table e guardate un po leggete che c'è scritto 8 su 13 cromosomi sono quelli che abbiamo raccolto sono 8 in effetti quindi adesso abbiamo un template basta raccoglierlo con i nostri 8 cromosomi che abbiamo raccolto e questi 8 cromosomi sono i nostri cromosomi perfetti per creare l'ape unnisciente però ma sono 8 lo sapete con 8 cromosomi non si può creare un'ape o forse sì o forse sì vi faccio vedere molto semplicemente allora noi ci serve un altro macchinario simpatico dovrebbe essere uno di questi dovrebbe essere genetic imprinter eccolo qui ragazzi quello che ci serve lo stransetto l'ho beccato l'imprinter ma ce ne avevo già un po di questi mi pare l'imprinter ci permette di inserire all'interno di un'ape i geni che vogliamo noi e qua esatto ragazzi possiamo modificare geneticamente le api come vogliamo noi a nostro completo piacere però mi serve un cavetto effettivamente capi eccoci qua ragazzi grazie a questo genetic imprinter io potrei inserire all'interno di un'ape questi miei come posso dire cromosomi esatto si chiamano cromosomi ovviamente se il genoma non è completo l'ape viene una mega merda e potrebbe anche uscire un'ape morta o geneticamente danneggiata che non produce un cazzo che è solo da buttare insomma tipo lo schifo totale un rifiuto genetico insomma tipo le abomini tipo i mostri quelli brutti dei film c'è presente esatto quelli è uguale ad esempio quello che vorremmo noi adesso sono le common non dobbiamo fare common più coltivate giusto ok e le coltivate le sto facendo ora le common ce le ho 21 vi sembra sufficiente a voi 21 e le coltivate invece cazzo di niente siamo un po poco quindi io posso prendere le common guardate tutte 21 magari anche altre dalle dalle quine prendo un altro po dove stanno ecco ne ho prese due stack e le vado a mettere all'interno di questo schifo di coso il genetic sampler si quello che abbiamo utilizzato fino all'altra volta che però abbiamo bloccato ovviamente stava ammassando troppe abile lo faccio manualmente è meglio per ora però quando avremo una big produzione lo farò tutto automatico ovvio e dobbiamo aspettare che esca un genoma che ci dia la specie common esatto tra i genomi che possono uscire ragazzi c'è anche la specie esatto con la specie noi possiamo addirittura replicare l'appe cioè possiamo inserire una specie dentro un'altra specie io devo solo aspettare vedete che adesso qui abbiamo oh è uscito specie common che culo null ho fatto oh ti dico fermate ok prendo il genetic template lo vedo qui dentro e 9 su 13 con specie se leggete common quindi stiamo creando ragazzi un'appe comune con tutti i valori che abbiamo fatto con le api precedenti c'è il fertility 4 ignora dei night flowers le rocce sotterranea capito la common più potente dell'universo in questo caso guardate che prendo le rocce princess che ne abbiamo 2800 ragazzi io prendo la rocce princess la metto qui gli metto il template creato da noi e gli metto i suppelletti lì da laboratorio prendo da qui perché quasi auto riforniscono e guarda un po stiamo inserendo all'interno della rocce il genoma della common modificato da noi con tutte queste qualità particolari i cromosomi mancanti saranno purtroppo casuali quindi potrebbe uscire anche una mega merda come vi ho detto quindi dobbiamo completare questo template ci mancano sempre questi quattro cromosomi che però a questa velocità ragazzi raggiungiamo in un attimo stiamo facendo api common pressing stock a go go e queste duplicabili leggete che c'è scritto guardate missing 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 leggete perché manca il cromosoma stiamo duplicando la common all'infinito ragazzi e ovviamente questo sarà dovrà essere automodizzato con l'ME ovviamente mutirò un cavo fino qua perché non si può guardate che figata sta moda ragazzi è bellissimo stiamo creando common princess a go go dall'aria proprio bam e queste common princess come sapete voi unite insieme a quelle stronzette laggiù queste belle stronzette blu che sta accoppiando qui ecco qui alle nostre bellissime cultivated ci daranno la valiant giusto e la valiant è quella che ci serve cioè tutto what the fuck gg well played cioè non so se non so se ho reso l'idea non so se sto rendendo cosa cosa sto creando qui cioè voi capite questa più questa ci dà l'ape che ci serve è figata sta cosa come questa perché le api sono bellissime ragazzi c'è tanta gente che non le sopporta ma soltanto what the fuck reported please qui sta già lavorando al prossimo guardate quante api sto creando oh mio dio mi fumento eccola qui la diligente non era la valiant la diligente ragazzi gg gg diligent queen prince in stocca go go e anche questi adesso le farò accoppiare come stronzette no ma è uscita la nobel vabbè chi se ne fotte va bene lo stesso la nobel mi serve ragazzi mi preoccupate e continuiamo a copiarle dato ce l'ho le sto cultivated dove è il problema questo è il problema e lo sapete adesso che faccio come ho fatto con tutte le api che ho utilizzato finora le metto tutte a moltiplicarsi dov'è la common guarda quante cazzo ne sto facendo what the fuck le metto tutte a moltiplicarsi come le altre c'è qui aspetta dove che arrivano le 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 cultivated fino a qui ok qui cominciano le diligent una due tre ovviamente manca l'umidità perfetto aggiungiamo l'umidità e tutte le nostre api dovrebbe partire perfetto ragazzi stiamo accoppiando diligent all'infinito e adesso facciamo la stessa cosa a noi serve la magenta giusto la magenta viene tutta da da api che si fanno con la diligent la diligent accoppiata più altre api che noi abbiamo tipo la common la diligent con la common abbiamo il farm infinito di common le duplichiamo la blu che si fa con la diligent e la forest avevo 200.000 forest non ho perso il conto di quanto ci hanno dei forest ormai ragazzi forest quanto ne ho ti è uno sproposito da uno 700 forest se non di più comunque per questo video è tutto io spero che stiate capendo come funzionano le api perché sono tipo bellissime cioè la gente le sottovaluta troppo ragazzi troppo belle troppo comode e anche facile alla fine perché non è molto intuitiva come cosa quindi di gioco il plate per questo video è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video dove che cazzo sta succedendo qui perché ci sono i modus drone sotto la water queen cazzo fa il suo gioco si droga pesantemente di brutto brutto ciao a tutti al prossimo video bella